ciao cristian come ti senti e che emozioni vivi nel tornare qui ad allenarti è un'emozione bellissima rivedere i compagni fa sempre un certo effetto rientrare in spogliatoio rivedere i campi è una cosa che anche quando sei in vacanza ti manca quindi non vediamo l'ora di ripartire questa sarà la tua seconda stagione in nero azzurro quanta voglia di iniziare e quali sono gli obiettivi ho tantissima voglia di iniziare come dicevo prima ti manca sempre il campo quando non sei qua e gli obiettivi ne riparleremo col mister ma sappiamo tutti che che quest'anno dobbiamo cercare di prenderci soprattutto il campionato l'anno scorso avete fatto una grandissima stagione quindi il livello si è alzato diciamo sì certo è stata una stagione bellissima per me un'esperienza incredibile e i ragazzi mi hanno aiutato tutti dal primo all'ultimo quindi speriamo quest'anno di poter fare ancora meglio quanto contano questi giorni per voi per arrivare pronti poi al fischio d'inizio del primo match ufficiale no certo conta tantissimo la preparazione è molto importante dobbiamo rimettere subito tutti i benzina nelle gambe e dobbiamo cercare di lavorare forte e duro per arrivare al 20 agosto nel miglior modo possibile grazie a tutti